Ragazzi eccoci qua per una nuova presentazione, un saluto a tutti quanti, grazie per i mille commenti che sono arrivati appunto nelle chat, grazie, vi è piaciuta un sacco appunto la colorazione, immaginavo ragazzi, la colorazione appunto, le sfumature appunto del nostro tubo al quarzo, beh, del resto la pensiamo uguale, grazie a tutti quanti, perfetto ragazzi. E come avevo promesso andiamo avanti e vediamo quindi le altre lampade accese, giusto? Perfetto ragazzi, lo so che non vedete l'ora di vederle accese, perfetto, e ok, io sono pronto, allora abbiamo lo stesso identico circuito, perfetto, però abbiamo cambiato lampada e abbiamo montato una lampada agli ioduri metallici per la precisione, non più al sodio, ma la potenza è la stessa perché anche questa è da 250 watt, come lampada al sodio della scorsa volta che avevamo utilizzata. Le nostre lampade agli ioduri metallici emanano appunto quella gradiazione Kelvin sul biancastro azzurrognolo, ok, e questa qua è una tipo 6000 Kelvin, o meglio 6K Kelvin, perfetto, per questo tipo qua, che non è agli ioduri ceramici, emanerà proprio una radiazione luminosa, principalmente di spettro azzurrognolo, con sottofondo biancastro, che poi automaticamente si modulano insieme e automaticamente abbiamo la sfumatura. Diciamo così, ovviamente sono lampade per illuminare grandi ambienti come stadio, campi da calcio, campi da tennis, ok, e le vediamo normalmente all'interno dei fari, col suo riflettore aumenta e triplica la luminosità per poi mandarla tutto intorno all'ambiente, per illuminare tutto l'ambiente, cioè, perfetto. Ovviamente sappiamo, ragazzi, che sono lampade accecanti, abbiamo sempre l'ampolla, ok, al vetro minerale quarzato, che resiste alle elevatissime temperature, che supera anche 2000 e passa, ok, bene, e all'interno automaticamente si innesca l'arco voltaico, il plasma, che automaticamente scalda il gas, lo ionizza, e poi, fino ad arrivare allo stadio massimo di luminosità. Perfetto! Ehi, lampada, sei pronta? Sì. Ok, io sono pronto, e allora siamo tutti pronti, bene. Il nostro alimentatore è già acceso, già posizionato sui 23, bene. Ah sì, il nostro amico relè è già attivo, ma adesso vediamo una cosa. Ecco perché abbiamo lasciato montato il nostro circuito, ragazzi. Cosa osserviamo adesso? Potremmo osservare, con magari grande stupore, che non riusciamo neanche ad accenderla, almeno con un solo magnetotermico, perché la richiesta di corrente nello stadio iniziale, quindi, zac, è immediata, praticamente è un picco di corrente molto alto. Vediamo, vediamo insieme. Perfetto, ragazzi, io sono pronto. Oh sì, beh, uno o l'altro. Rivediamolo. Non riesco neanche a attivare il magnetotermico. Questo perché? Perché la corrente di picco punto richiesta dalla mia lampada nello stadio iniziale è praticamente di 2,5 A. E sì, perché le nostre lampade e gli oduri metallici hanno bisogno di uno spunto di corrente molto più elevato rispetto a quello al sodio. Perfetto, ragazzi. E quindi? Io proviamo con due, magari siamo più fortunati, chi lo sa. Cosa succede? Sentiamo questo rumore qua? Siamo al limite. Ce la facciamo, però. Ce la facciamo. Per adesso, un attimino. E' come se il nostro stadio magnetotermico ci dicesse Ehi, non ce la faccio più! Sono al limite! Ok, aspettiamo un attimo. Adesso io non mi ricordo mai a memoria tutte e poi le regolazioni di tensione corrente poi di richiesta delle lampade alle ioduri metallici. Però, ok, perfetto. Ecco che stiamo raggiungendo lo stadio massimo di luminosità. Cresce sempre di più, cresce sempre di più. Possiamo già vedere la tipica colorazione, appunto, azzurrognola. Ok, biancastra, bene. La tipica vibrazione prodotta, appunto, della lampada. Ok, bene. E io direi, appunto, di vederla al buio, se si riesce. Un secondo. Ok. Ecco. Ed è un po' osaurita. Ho sempre il problema con l'interruttore dell'accensione di illuminazione. Ok, ragazzi, perfetto. Ok. Ed ecco qui che raggiunge lo stadio massimo di luminosità. Questo qua è il rumore prodotto dal reattore. È un po' tipico rumore, tipo un trasformatore in funzione. Pian pianino che la luminosità cresce, il rumore si attenua. Ok. Caccia già un calore dell'amadoda. Aiuto, sto andando a rosto. Perfetto, ragazzi. Ok. Perfetto. Dovremmo esserci. Ok, dovremmo aver raggiunto lo stadio massimo di luminosità. E potete osservare, ragazzi, che fa ancora una bella luce, eh? Niente male, vero? Perfetto. Eh, beh, sì. Ok, ragazzi. E quindi, stacchiamo l'alimentazione. Ok. Adesso, ovviamente, poi scende giù di radiazione. Pian piano inizia ad affreddarsi. Non tocchiamo, ovviamente, la lampada, ragazzi, perché è una 250 watt ed è bollente il vetro. Mi raccomando. Onde evitare ustioni. E quindi, ragazzi, ciao a tutti. E l'abbiamo vista accesa. E ci vediamo nella prossima presentazione. Magari con una lampada HQL. Ovvero quelle ai vapori di mercurio. O come le chiamo io, appunto, le uova di Pasqua. Perché sono bianche. Mi ricordano le uova di Pasqua. E non lo so, ragazzi. Chissà perché mi ricordano le uova di Pasqua. Ciao a tutti. E alla prossima.